Sì, è un'iniziativa che non è un'iniziativa statistica, è una considerazione politica nell'eccezione migliore del termine, nel senso che vogliamo far capire, aiutare a capire e capire a nostra volta, con un incontro proficuo con quanti compiono gli anni in questa tornata, che acquisiscono un potere rilevantissimo, l'arma del voto, che è una considerazione è una possibilità che va spesa con intelligenza e con spirito costruttivo. Noi, i nostri giovanissimi concittadini, regaleremo una copia della Costituzione, un piccolo ricordo, un attestato, un piccolo ricordo. Per dire che entrano a pieno titolo, già lo sono per altri versi, perché la partecipazione al dibattito democratico è profigua tra le giovani generazioni, mentre un appieno titolo nell'età adulta possono aiutare a determinare le scelte che riguardano la guida della città e dei paesi. Leonardo Gallo, consigliere comunale perspicace, ha immaginato e progettato questa ipotesi di lavoro che ci ha sottoposto e l'amministrazione comunale immediatamente se ne è fatta carico, la giunta se ne è fatta carico e così faremo una piccola cerimonia di incontri, di consegni e di ascolto con quanti hanno raggiunto la maggiorità in questa tornata di tempo e sarà una bella iniziativa, un bel incontro per scambiarci reciprocamente di opinioni e considerazioni. È chiaro perché l'idea, chiaramente non ha nessun risvolto elettoralistico, ci mancherebbe pure. L'idea è che simbolicamente i ragazzi che sono nati nel 2000, quest'anno hanno compiuto la maggior età, 18 anni, che è un'età che tutti quanti noi ricordiamo, è un evento che abbiamo atteso e sembrava non aggiungere mai per poi dopo invece dare la spinta a farci diventare immediatamente così velocemente adulti. Sì, e quindi li invitiamo perché ci piace che la comunità festeggi in questa sorta di entrata in società i nuovi maggiorenni. I ragazzi con i 18 anni avranno pienamente la potestà di determinarsi con tutta la capacità giuridica che le nostre leggi consente loro e entrano ufficialmente nel mondo a tutti gli effetti. Questo ci piaceva sottolineare, li festeggeremo il sabato 29 dicembre alle 10.30, a tutti loro sta arrivando un invito diretto del sindaco e troveranno anche un cartoncino con il quale potranno parcheggiare liberamente quella mattina nei pressi del comune, un piazzale ad hoc e soprattutto chiediamo loro di farci sapere entro il 21 dicembre se saranno presenti in maniera tale da ospitarli nella maniera più degna e decorosa possibile. Quindi sono tutti invitati, coloro i quali hanno compiuto 18 anni o stanno ancora per compiere 18 anni nel 2018, sono nati a Salerno anche se non vi risiedono o vi risiedono pur non essendo nati. Li aspettiamo tutti il 29 mattina.